E' una comunità che non sa darsi pace, quella di Ciro Marina. L'omicidio di Antonella Lettieri ha scosso tutti. Era sempre con il sorriso sulla bocca, semplice, allegra. Una brava ragazza, una ragazza spettacolare. Casa e lavoro, ripete chi la conosceva. Mentre si indaga su due piste per far luce sulla sua morte. A trovare il corpo, il fratello della vittima allarmato perché la giovane 42enne non si era recata al lavoro nel negozio di alimentari gestito dalla sorella. Da quanto si apprende, la donna indossava ancora un giubbotto e aveva in mano un telefonino. A rafforzare l'ipotesi che si tratti di un omicidio, anche il fatto che Antonella Lettieri presentava una ferita alla testa. Sul posto, i carabinieri della locale compagnia, il medico legale, il nucleo investigativo, intervenuti con i militari della squadra investigazioni scientifiche del reparto operativo che dovranno stabilire l'esatta dinamica della morte. Gli uomini dell'arma non escludono però nessuna pista. Da alcune indiscrezioni emergerebbe che l'abitazione della donna sia stata trovata a soquadro. La sua morte lascia tutti i sgomenti. L'amministrazione comunale, guidata da Nicodemo Parilla, ha diramato una nota. La notizia diffusa del ritrovamento del corpo senza vita della giovane Antonella Lettieri ha gettato nello sconforto e nel dolore l'intera comunità di Ciro Marina, afferma il primo cittadino. Il sindaco e poi l'amministrazione comunale, facendosi interpreti del sentimento di tutti i cittadini, esprimono vicinanza e solidarietà alla famiglia. Grazie